Il consigliere Terranova, prego consigliere per dieci minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Dunque, mi sembra che dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto si cerchi di sottolineare con una nota di pessimismo i problemi che esistono nell'amministrazione economico-finanziaria di Roma Capitale, ribadito più volte che tutti questi problemi questa amministrazione gli ha ereditati, è stato riconosciuto anche dai colleghi dell'opposizione e questo è sicuramente apprezzabile in termini di atteggiamento. Il punto è che io in realtà invece cercherei di guardare il mezzo bicchiere pieno anche perché per amministrare un ente così articolato, così complesso come Roma Capitale poi alla fine serva anche un po' di lungimiranza, di prospettiva, non dico di ottimismo perché poi si deve lavorare sui fatti concreti. Io credo che innanzitutto va riconosciuto l'enorme lavoro che la Giunta, in particolare l'assessore Mazzillo con i suoi collaboratori, insieme agli uffici, alla ragioneria generale hanno portato avanti in questi mesi. Un lavoro che ci ha visto inizialmente entrare in corsa su un'amministrazione che proveniva dalla gestione commissariale del dottor Tronca quindi tra le altre cose un'amministrazione non vincolata da una volontà politica ma bensì semplicemente dalla necessità di amministrare dal punto di vista tecnico l'ente quindi permettergli di funzionare più che altro per la normale amministrazione in attesa che poi un'amministrazione di carattere politico subentrasse alla gestione commissariale. Questo è uno dei motivi per cui io mi sentirei di vedere con un certo ottimismo anche in base a quello che l'Oref stesso riporta nella relazione che ci ha consegnato proprio per sottolineare sostanzialmente due aspetti l'amministrazione di Roma Capitale rispetta tutti gli equilibri, rispetta i vincoli di legge rispetta ciò che è stabilito sia dai regolamenti di contabilità ma quello che poi le leggi dello Stato ci impongono in termini di piano rientro e di rispetto degli spazi di finanza. Dall'altra, seppur sottolineando il permanere di una serie di situazioni critiche il fatto che determinate iniziative sono state intraprese non ultima, e questo è da sottolineare, il fatto che questa amministrazione dopo un bel po' di tempo è stata la prima amministrazione che ha riconosciuto circa 100 milioni di debiti fuori bilancio proprio nella parte terminale dell'anno ribadisco per l'ennesima volta che era previsto che non è stato il parere inizialmente non favorevole dell'OREF a darci la possibilità di riconoscere quei debiti perché, ripeto, nella pianificazione, e i colleghi lo sanno bene, era prevista l'approvazione entro il 23 dicembre per lasciare gli ultimi giorni comunque all'approvazione dei debiti fuori bilancio. Questo non è avvenuto per le note vicende legate appunto al parere inizialmente non favorevole dell'OREF, ma ricordo comunque che poi il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il 30 gennaio, quindi con largo anticipo sulla scadenza del 31 marzo come mettendo, anche se su queste cose forse non è il caso di fare competizioni comunque mettendo Roma, la capitale d'Italia, nelle condizioni di essere la prima delle grandi città italiane ad approvare il bilancio di previsione triennale. Non ultimo adesso arriva il parere sull'approvazione del rendiconto il rendiconto di fatto, se vogliamo, fra tutte le fasi del calendario contabile è la più tecnica, cioè si prende atto di quello che è scritto nei libri nei registri della contabilità, ormai ovviamente ridotti a file elettronici. Se vogliamo anche la cartina di tornasole, sul rendiconto non si fanno ipotesi non si possono immaginare nemmeno dal punto di vista creativo quello che si può immaginare nel rispetto ovviamente sempre dei regolamenti e delle leggi, quello che si fa in un bilancio di previsione dove si può immaginare di prendere una linea di intervento piuttosto che un'altra. Nel rendiconto si analizza quello che è scritto nel sistema contabile e soprattutto se quello che è scritto è scritto in modo corretto e ha rispettato tutti i vincoli che sono imposti da leggi e regolamenti. Questo dal parere dell'Oref è dichiaratamente in più punti del parere è un parere come al solito articolato e su questo è chiaro che l'Oref fa sempre un lavoro molto attento e profondo e questa è una cosa che ci devono orgogliere perché nel momento in cui un'analisi è così ben condotta, così approfondita vuol dire che tutto ciò che viene fuori è anche frutto di una volontà di fare come poi è compito dell'organismo di revisione il massimo della chiarezza su quelli che sono i conti dell'ente. Quindi ribadisco che su questo parere sostanzialmente c'è scritto che pur ribadendo quelle che sono le difficoltà storiche di questa amministrazione si stanno facendo tutta una serie di azioni che sicuramente non hanno introdotto nuovi problemi come è sempre stato fatto nelle fasi precedenti ma soprattutto si stanno ponendo le basi e ricordo che il rendiconto per ciò che riguarda l'analisi dei conti è riferito al 2016 quindi un esercizio in cui l'attuale amministrazione di fatto ha operato per pochissimi mesi se vogliamo escludere i mesi di luglio e agosto che sono stati dedicati all'assestamento di bilancio quindi un fatto prettamente ragioneristico e tecnico come ribadimmo allora e molto poco alla possibilità di programmare gli interventi Ricordo anche che normalmente la programmazione e quindi l'eventuale mancanza di riscontro di una programmazione in evoluzione sull'andamento del 2016 è frutto di una programmazione che nasce nell'allestimento e nella preparazione del bilancio di previsione quindi entrare su un treno in corsa e cambiare, modificare radicalmente quello che è l'andamento dell'asset economico finanziario dell'ente è un qualche cosa che sicuramente si è intravisto ma ovviamente si vedrà molto meglio in futuro grazie a tutti gli interventi che la Giunta con il supporto del Consiglio delle commissioni sta portando avanti anche in termini di programmazione mi si dia la possibilità in questo contesto e chiudo di preannunciare questo magari i colleghi della commissione bilancio lo sanno proprio una nuova attività di ricognizione su dipartimenti e municipi per ciò che riguarda l'andamento della gestione 2017 in virtù e in previsione dell'assestamento di luglio cercando anche in questa fase con una fase trasparente di partecipazione e collaborazione con le opposizioni che è tipica dell'attività di commissione che porterà e darà la possibilità di collaborare poi con la Giunta per dare delle indicazioni rispetto a quelli che sono eventualmente una modifica o un'integrazione della gestione immaginata nel bilancio di previsione 2017-2019 grazie